Ancora un raid all'interno di un cimitero nella provincia di Arezzo. Dopo la razzia di alcuni giorni fa al Camposanto di Frassinetto, dove erano state divelte alcune lapiglie, trafugati, vasi e statuine, alcuni malviventi questa volta si sono introdotti nel cimitero di Quarata. Nella notte tra venerdì e sabato alcuni banditi hanno forzato il lucernario di una cappella per potersi introdurre all'interno, arrampicandosi sulla vetrata. I malviventi si sono però lasciati alle spalle solamente una scia di sangue, molto probabilmente ferendosi con il vetro infranto. Non sono infatti riusciti a portar via nulla dalla cappella. I banditi molto probabilmente dopo essersi feriti si sono dati alla fuga, non ci sono infatti nelle altre cappelle o lapidi segni di infrazione. Una triste scoperta, quella dei familiari che all'arrivo al cimitero si sono trovati davanti una scena raccapricciante. Sul pavimento della cappella copiose tracce di sangue, una violazione della sfera più intima e privata, quella del luogo di riposo dei propri cari. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi sulle tracce matiche lasciate dai malviventi. È una cosa intollerabile, inaccettabile che ciò avvenga all'interno di un luogo dove le famiglie devono andare a pregare i propri cari e quindi l'amministrazione di Arezzo Multiservizi prenderà tutti i provvedimenti necessari per che questo fenomeno venga interrotto. Abbiamo già sollecitato la Commissione Sicurezza del Comune che andremo in audizione sicuramente entro i prossimi giorni al fine di definire un intervento per far sì che queste situazioni vengano a terminare.